Un nuovo video inizia sull'avventura dei nostri ragazzi che facciamo i video di pallone Ragazzi ogni video è serio Stiamo 3 a 1 Cioè a 0 A 1 2 a 0 perchè voi non vedi 2 a 0 Che cosa stiamo 3 a 0 E c'è il getto stiamo 3 a 0 Stiamo 3 a 1 forse Andami i poveri Oh no Ma andami muoviti Ma che stai addormentando te E' da là Passa l'andre però eh Ma sei scemo Passa Passa me lo maga Ma lo vediamo Scatta Passa Scatta Merde Ma dove scatta E' scatta Passa andre Passa però andre Passa Segno subito Ah Lo faccio Mette Passa andre Hai distrutto un'opera nella corsa Hai distrutto un'opera nella corsa Hai distrutto un'opera nella corsa Passa 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 Non sono questi facili Quattro Hai fatto pure carriera della telecamera No Eh no Questo che è Quattro Quattro A 1 Grandi golle Io andre Andrè 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 Vai No Poi amore Facciamo su di Che male Che male Che male Mamma da mamma Un fresco nell'amazzone degli ingetti vorandi Qua si possono uscire Vorandi Ma questa palla che pulizioni La corsa Va La frutta Lo fa Lo fa Enrico Le pazza Deve fare il minatore Andrè Minatore Minatore Oh Ordi Rau Signore 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 Passa Passa Spazzati Giuseppe Mi ha sfidato I che lo segnalano Ma Mamma Ma Ammo Daniela Ti accende in questo tiro Ah Andrè Passa Giuseppe Devo segnalarlo Per scampare E' una giulata Oh Si imbanni 1 0 Oh Passa Eh Vuol dire la telecamera in futuro Oh Passa Giuseppe Giuseppe Non è colto Si Eh Ma Patti Cazzo Cosa è? Ah però vediamo tutti e due! Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? La mia favore fra me! Vabbè? 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 Andre Combs! Cosa è? La freina? Cosa è? Non ti giuro! Ecco ora! Ma come ti permetti eh? Ecco, ora si! Due tre zero! Vabbè? Vabbè? E' mezzo! Sì! Ma che golo! Mitico! Ehi! 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 Vai! Vai! Vabbè! 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 Ah! Vabbè! 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 Santo! Ma stai male! Stai male! Ma stai male! Ma stai male! Ma stai male! Ma no! Non ti permettere! Andre Combs! Vabbè teniamo! Pari scherzetti che non vuoi fare! Hai giù se passa! Ehi! No! Guarda là che culo! Ma stai male con i piedi! Ma stai male con i piedi! Aspetta che non voglio! sono pronto è irregolare l'intervento che parata di coscia vai lì sotto Giuseppe vai lì, passa subito manneggia porco Dio manneggia è qua, è qua che hai fatto? ha guardato la roba di scena la roba di scena non è successo si, non è successo ma se avete paziente soffrono da pregati traforti sono sempre loro due guarda noi non puoi fare, vedo andrete, hai sbagliato sicuro con la ripagina a tavola? e che hai fatto? che hai fatto? e non l'ho fatta apposta ma quello si è messo in mezzo no veramente l'ho fatta apposta no, già era bucato da prima e basta e basta basta faremo questo pallone guarda e ha preso una botta che devo fare? ha preso una botta no no Grazie.